E' uscito l'ultimo trailer di Attack on Titan 4 parte 3 Dell'episodio insomma lungo speciale che uscirà venerdì Vediamolo, vediamo questo capolavoro Siamo già a dire che i disegni sono anche migliorati Ogni parte che fanno è sempre più bella Mamma mia, mamma mia Mamma mia Guarda, guarda E' migliorato, è migliorato E' migliorato, cioè Ma poi si supera Nonostante abbia 350 cose da fare Meravigli Fantastico, no ragazzi, fantastico Fantastico, fantastico Ma no, è fantastico Ma lo devo pure dire che è fantastico Cioè, vabbè, vabbè Vabbè, no No, no 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 No, io ho veramente Ah, ecco C'è anche l'ha annunciato il titolo Della prossima canzone Cioè, dal prossimo opening Sempre dei sim Che si chiamerà Under the tree Sotto l'albero Ma io dico, no Ma gli altri anime che devono uscire quest'anno Ma che figura di merda faranno? Come sfigureranno? Nei confronti di Attack on Titan Qui, parte 3 Poi sì, avranno fatto pure 4.350 parti Ma se le fanno di qualità Va bene lo stesso Cioè, l'importante è la qualità La qualità sempre al primo posto Poi voi direte Vabbè, che so, Giro Adesso gli altri anime Sfigurano vicino ad Attack on Titan E vabbè ragazzi Va bene